La Polizia Provinciale di Agrigento accaccia di sversamenti fognari e soprattutto degli inquinatori. Sono partiti nei giorni scorsi i controlli da parte degli agenti, quali su indirizzo del Commissario del Libero Consorzio Benito Infurnari, hanno cominciato a controllare la presenza o meno nei corsi d'acqua di eventuali tracce di reflui che possono lasciare supporre la presenza di reati ambientali, controlli che hanno subito ottenuto dei risultati. Gli uomini diretti da Vincenzo Giglio hanno effettuato infatti un sopralluogo nell'area del depuratore di Licata, già oggetto della Procura a seguito del sversamento avvenuto lo scorso mese di aprile. In questo caso sono state individuate delle carenze gestionali, che sono state subito prontamente segnalate all'Assessorato regionale alle energie e alle acque e all'Assessorato territorio e ambiente, oltre che per conoscenza alla Procura della Repubblica. Quindi, oltre a quanto finora è stato inviato in Procura, si aggiunge anche questo nuovo fascicolo. Buone notizie invece provengono da Torre di Gaffe, Contrada Pisciotto e Mollarella. In questi siti infatti non è stata riscontrata, almeno visivamente, la presenza di inquinanti di origine fiorgnaria. Prelievi sono stati realizzati invece lungo il corso del fiume Palma, dove gli agenti avrebbero trovato alcune vasche di accumulo contenenti liquami non meglio identificati. In questo caso sarà l'ARPA da analizzare il campione. I controlli, spiega Vincenzo Giglio, non sono ancora finiti e riguarderanno tutta la costa grigentina, con particolare attenzione alle aree interessate dalla presenza di depuratori alle fuoci dei fiumi.